Cari amici, ben arrivati in questa nuova riflessione fotografica nella quale parliamo di mirini, in particolar modo di mirini elettronici. Lo so, il titolo è un po' particolare, mirino elettronico, io speriamo che me la cavo, perché mi sono immaginato al tempo in cui insomma le mirioles si sono uscite fuori e quindi l'obiettivo era sostituire, far abituare il fotografo, soprattutto fotografo evoluto e anche professionista, insomma queste erano un po' le mire, le ambizioni ad un mirino elettronico e secondo me gli ingegneri, gli ominomarketing hanno veramente detto io speriamo che me la cavo, perché era una sfida da vincere mica da poco. Allora prima di andare a argomentare e raccontarvi insomma un po' dove siamo con i mirini elettronici, dove dovremmo essere eccetera eccetera, vi ricordo di iscrivervi al canale, di spuntare alla campanellina per rimanere aggiornati, vi ricordo anche che in descrizione a questo video lascio sempre i link alle pagine e ai video di presentazione dei nostri corsi online dallo scatto alla stampa fine art, il corso dedicato al bianco e nero, veramente tante tante ore di video lezioni solo esclusivamente sul bianco e nero e alla post produzione per il bianco e nero e poi un nuovo corso sulla composizione dove si analizzano tutte le strategie per ottenere immagini dal forte impatto visivo. Detto questo torniamo in argomento perché è un tema che sinceramente mi sta un po' a cuore. Per me è sempre stato importante, ho già fatto delle riflessioni dei video sui mirini in generale, però ultimamente se mi seguite, l'ho detto in qualche video passato e qualche recensione, che oltre ai miei sistemi mirrorless, quindi sistema sigma fove nel sistema panasonic s1 con ottiche sigma, essendo sigma bassa dal punto, oltre ad avere insomma un sistema fuji, utilizzo, sono tornato a utilizzare anche delle fotocamere reflex digitali e analogiche. Lasciamo perdere il folding 4x5 e il medio formato assemblade eccetera perché lì i sistemi dei mira sono su un'altra dimensione spazio-temporale. Parliamo semplicemente di reflex digitali e devo dire full frame e devo dire che il confronto anche con un mirino ottimo per la tecnologia attuale come quello della panasonic s1 in molti casi devo dire è piuttosto impetuoso, cioè ti cadono un po' le braccia, ecco diciamo un po' la verità. Perché? Allora cerchiamo un po' di fare un ragionamento sensato e concreto. Allora cominciamo da dove siamo partiti. I primi mirini, vi ricorderete ragazzi erano ai limiti dell'accettabile, cioè primi mirini elettronici sto parlando, quindi erano mirini che tra l'altro la tecnologia mirrorless è nata, cioè fotocamera e mirrorless non avevano neanche un mirino, il concetto era proprio di una compatta con un sensore grande adotti intercambiabili. Poi gli omini marketing hanno subito capito che in Europa e in Nord America macchine non avrebbero vendute e quindi hanno introdotto i mirini che vi ricordate si inserivano esternamente, ci sono ancora oggi alcune, con maggior parte fatti da Epson e rivenduti a prezzi imbarazzanti, vabbè ma comunque lasciamo perdere questo discorso, mirini che tutto sommato erano anche abbastanza grandicelli, alcuni erano comodi perché si orientavano verso l'alto, però oggettivamente non erano mirini particolarmente di qualità, definizione ai limiti dell'accettabile, refresh veramente mediocre, 30 fotogrammi al secondo se andava bene, vi ricordate la prima volta tu provavi a muoverti lateralmente, ti portavi il sacchetto di carta in tasca perché vomitavi tipo aereo o nave, era una roba di esperienza fastidiosissima, insomma adesso ci sto ironizzando, ci sto scherzando, insomma i mirini sono partiti dall'essere molto meglio dei mirini di una compatta, ma all'essere molto lontani da un mirino ottico, addirittura i mirini ottici di APS-C che erano quei cunicoli orribili che si insomma si vedevano, però i costruttori dei progressi l'hanno fatti perché dove siamo oggi? Allora come dimensioni sono fattori di ingrandimento, sono quasi tutte da 0,70 per assalire, c'è qualche modello 0,68, 0,65 ma insomma siamo lì e quindi questo va molto bene, anzi devo dire che gran parte dei mirini elettronici sono più grandi anche su sensori APS-C perché non c'è il vincolo dello specchio ovviamente rispetto alle reflex. Sulla definizione c'è ancora qualche fotocamera che ha una definizione, mi sono segnato, di 1024 x 768 pixel per essere precisi, quindi sopra 2 mega e rotti, insomma ma non solo fotocamere entry level magari di micro 4 terzi che ha praticamente sempre questa definizione in tutte le fotocamere, ma anche, parlo di Olympus, ma anche di fotocamere full frame come ad esempio la Panasonic S5, la Sony A7C, insomma una definizione molto scarsa. La media, la maggior parte delle fotocamere, quantomeno diciamo di fascia intermedia, cioè destinata al fotomatore o al professionista, sono tutte con una definizione di 1280 x 960 che è 3 mega e 6 circa insomma di definizione. Poi arriviamo ai mirini più seri come quello della Panasonic S1, S1R, della Canon R5, R3, insomma che hanno un mirino di 1600 x 1200, fino ad arrivare al mirino iperdefinito della Sony A1 che ha 2048 x 1536, circa quasi 10 milioni di pixel, quindi da questo punto di vista la definizione è arrivata a livelli importanti, ma ci sono dei se e dei ma che vi dico fra poco. I refresh quasi tutti i mirini, ripeto di fotocamere accettabili, vanno da 60 fino a 240 fotogrammi per secondo della Sony A1. Insomma questo è lo stato attuale dei mirini elettronici. Allora nell'uso reale cosa comportano questi mirini? Quali sono gli aspetti negativi? Gli aspetti positivi li sappiamo, il mirino elettronico ti permette di vedere meglio la messa a fuoco manuale, in alcuni casi se la definizione è decente, ti permette di avere l'anteprima dell'esposizione, ti permette in condizioni di luce molto scarsa di vedere meglio, quindi ci sono ovviamente tanti pro del mirino elettronico, questo è scontato, ne ho già parlato in un altro video. Qui voglio parlare però di cosa ancora manca, bisogna essere onesti e mi auguro e voglio fare questo video perché vorrei sensibilizzare chi è d'accordo ovviamente a cominciare a scegliere solo prodotti che hanno uno standard, che offrono mirini con uno standard insomma veramente dignitoso, altrimenti fuori andare, perché solo così i produttori si danno una svegliata. Allora quali sono diciamo i problemi attuali? Cominciamo dal problema con tanta luce solare, tanta luce solare magari che ti arriva di lato, a noi capita spessissimo nei matrimoni, e fai una fatica bestiale a fotografare. Se poi porti gli occhiali, ciao core, perché tu praticamente non vedi assolutamente nulla, perché entra la luce, sbatte sul pannello e tu di fatto, cioè sul mirino, e di fatto vedi poco o nulla. Non puoi utilizzare in molti casi gli occhiali ad esempio polarizzatori e questo può essere una cosa importante per alcuni portatori fotofobici eccetera, quindi devono utilizzare lenti magari quantomeno polarizzate o cromatiche, quindi si creano dei problemi anche da quel punto di vista. C'è un problema di refresh, perché è vero ragazzi che i fotogrammi, che le fotocamera arrivano fino al 120, 240, ma sono in molti casi valori come dire virtuali o meglio reali in tante situazioni, ma quando tu attivi ad esempio l'autofocus continuo, per fare un esempio, in quasi tutte le fotocamere, la frequenza, i fotogrammi per secondo o di refresh calano drasticamente, la qualità proprio visiva cala drasticamente, magari tu non ci fai caso, però se tu ci presti attenzione in molti casi si ha questo problema, cala la luce, automaticamente calano i fotogrammi per secondo, quindi in realtà sono a volte valori in condizioni ideali, o in certe condizioni di utilizzo, poi nella realtà i fotogrammi per secondo non sono a 120, magari sono a 60, o se sono a 60 magari arrivano addirittura a 30, tant'è che Nikon mi ha fatto molto piacere, l'abbiamo detto, parlando della Z9, il sistema dual stream di Nikon per cercare di mantenere costante la visione fluida e naturale del mirino elettronico e quindi insomma avere un flusso dati e un flusso di energia in qualche modo, detto in questo modo molto grossolano, dedicata al mirino elettronico, secondo me è un'idea molto intelligente e mi auguro che poi venga affiancata, replicata, migliorata da altri produttori. Poi abbiamo un problema di gamut, di gamut cioè di riproduzione sia del profilo colore, praticamente nessuno ha una copertura della W RGB al 100%, ma neanche si avvicinano al 95%, solo Fuji con l'X Pro 3 ha dichiarato insomma che ha fatto un lavoro col mirino elettronico, non ha lavorato molto sulla definizione che è rimasta sempre a 3.6 e rotti milioni di pixel, ma ha lavorato sul gamut, sulla riproduzione della W RGB, ma la maggior parte dei produttori, il gamut è ancora lontana dalla W RGB, c'è un problema proprio di gamut anche, i mirini sono molto contrastati a causa anche di profili colore molto contrastati come vanno un po' adesso, quindi c'è un problema di gamut e anche di riproduzione, perché è vero che io vedo l'anteprima, ma in molti mirini ragazzi io non ho, cioè quello che vedo nel mirino non è quello che poi vedrò nel display e non è quello che vedrò a monitor, insomma sta cosa non fa molto piacere perché in qualche modo mi azzeri o mi riduci notevolmente i vantaggi del mirino elettronico, ho provato recentemente, l'ha riprovato perché abbiamo già recensito la fuji gfx 100s fotocamera favolosa, dico senza remore, però il mirino, cioè che vedevo nel mirino e quello tenevo a monitor non ci seccava nulla, cioè c'è una diversità di colore, di contrasto importante, non ci siamo, una fotocamera da 6.000 pioppi, cioè certi standard devono essere top, punto, tutto il resto via, quindi è inutile che poi dopo uno si concentra su alcune tecnologie fuffa o delle supercazzole ragazzi, non si va da nessuna parte, con le supercazzole non si va da nessuna parte, si vendi qualche pezzo di fotocamera eccetera, ma poi dopo quando uno prende la fotocamera, attratto da, uh guarda, segue il movimento delle palpebre, guarda che bello, poi ci lavori, c'hai magari come sulla Sony A1 che hai dei del Moiré all'interno del mirino, è fastidioso, onestamente ragazzi è fastidioso, si usa tranquillamente, tantissima gente che è stracontenta della gfx 100s e della A1, per l'amor del cielo, però se dobbiamo essere onesti, no, non ci siamo e non diritto mi porta a 10 milioni di pixel poi con un difetto visivo del genere, non va bene, non possiamo accettarlo, non dobbiamo accettarlo, dobbiamo spingere i produttori a alzare sempre di più la naturalezza, la qualità dei mirini, apprezzo ad esempio la Sony A7IV, il cui mirino, ok, non brilla come specifico in assoluto, ma devo dire che i costruttori hanno lavorato bene in termini di naturalezza, di fluidità della visione, ecco, questi sono i passi verso cui dobbiamo andare. Quindi c'è un problema dicevo di gamut, ciò che io vedo nel mirino deve essere quantomeno uguale a quello del monitor, molto molto simile a quello del monitor, a quello del display e possibilmente a quello del monitor, insomma che ci sia anche lì una profilatura e una riproduzione del gamut come si deve. Poi c'è la madre di tutti i problemi ragazzi, la madre di tutti i problemi e quando tu confronti mirino ottico e mirino elettronico in questa situazione, cioè situazione ad alto contrasto, quindi tanta luce, tu magari tieni in gamma le alte luci, quindi le ombre si chiudono parecchio, ripeto soprattutto con alcuni profili attuali che tendono a essere molto contrastati, tu praticamente, e il tuo soggetto è in ombra, questo succede spessissimo nei matrimoni, cioè il soggetto è in ombra, poi ci sono le alte luci, chiaramente tu cerchi di tenere in gamma le alte luci e tu praticamente i soggetti non li vedi, vedi delle sagome che più o meno si muovono e come fai a fotografare dove magari è l'espressione del volto, non capisci se gli occhi sono aperti, sono chiusi, la gestualità, queste cose sono vere ragazzi, non è che sto così blaterando e lamentandomi, sono cose che noi ad esempio con Roberto ne parliamo spesso, ci confrontiamo spesso, abbiamo difficoltà da questo punto di vista e devono essere introdotte nuove tecnologie, Fuji ha fatto qualcosa, ha introdotto la visione cosiddetta naturale, cioè praticamente ti fa vedere all'interno del mirino una sorta di profilo flat, quindi estremamente flat, per cui tu le ombre sicuramente sono aperte e le vedi, se sovresponi e sottesponi comunque ha un'idea più o meno di quello che sarà la foto finale e devo dire che una pezza ce l'ha ammessa, il problema è che l'immagine è fortemente innaturale, cioè la visione naturale è esattamente l'opposto di ciò che tu vedi, è profondamente naturale, così come il naturale è un profilo log, è naturale, cioè è una roba grigia, non vedi nulla, cioè come resa, per cui vanifica un po' i risultati di un mirrorless, così uno mi può dire, ma togli l'anteprima dell'esposizione, a parte che in situazioni ad alto contrasto, comunque anche se togli l'anteprima, le ombre sono più chiuse rispetto a quello che vedi a occhio nudo, ma poi di fatto allora utilizzo una reflex, cioè se deve lavorare in quel modo utilizzo una reflex, che senso ha? Invece trovo più interessante il fatto che i produttori si concentrano su nuove tecnologie e mi fa piacere sentire da Nikon, da Canon, che guarda caso si rivolgono a professionisti che utilizzano la D6, la D5, la 1DX, c'è gente che insomma, cioè lì è super pro, che deve chiaramente lavorare in certe condizioni di utilizzo difficili, dove signori, finché non vi fate un mirino di livello, io la mirrorless, avrà pure il riconoscimento del DNA e del Covid, ma io non la compro, cioè questo è scontato, e per fortuna che esiste questa categoria che spingerà i produttori a inventarsi qualcosa, come Nikon appunto a sempre sta facendo, anche Canon, e vedrete che poi lo farà Sony, lo farà Olympus, lo faranno praticamente tutti gli altri, per cui ad esempio è una cosa stupida, ma dammi sul mirino, dove c'è il classico pulsantino, dove io posso praticamente switchare, display eccetera, me lo rendi un tasto funzione, dove io ci associo ad esempio, che ci clicco e va una sorta di log, un profilo più flat, oppure una sorta di HDR in tempo reale, quindi situazione ad alto contrasto, ci clicco in un secondo, lo vedo, poi quando non mi serve più, ci riclicco e lo tolgo, cioè non è che ci vuole un genio, cioè io a volte mi chiedo ragazzi, lo dico anche un po' di polemica, sinceramente, ma i costruttori, gli ingegneri, ma le provano le fotocamere? Io vorrei sapere, ma le provano le fotocamere? Perché a volte vedo delle cose che tu dici non è possibile, cioè a livello di ergonomia, prendi una fotocamera, metti un certo ottico e non ti ci sta le dita con i guanti, ma ragazzi, ma non è possibile queste cose qui, cioè bisogna pensarle, bisogna ragionarle un pochino di più, quindi a volte mi dà l'idea che le cose non vengono provate come si deve, e non è che possiamo essere noi consumatori, i tester, no? Perché o me le regali le cose, allora io te le testo volentieri, o se no io te le compro, tu hai fatto una minchiata, poi mi lamento sui vari forum, internet, eccetera, eccetera, al prossimo modello, oh ragazzi, dobbiamo migliorare questa cosa qui, non va bene, questa cosa non va bene perché è fare i fenomeni sulla pelle degli altri, diciamo così per utilizzare altri termini. Chiudo la nota polemica, ma secondo me ci stava, e ripeto, e funge da sprone, insomma elemento positivo, per spingere tutti quanti noi ad acquistare prodotti che abbiano una certa decenza per quanto riguarda i mirini, soprattutto elettronici. Quindi il mio mirino, diciamo elettronico, dovrebbe avere almeno una definizione di 1.600 per 1.200, cioè da 5.76 milioni di pixel, 120 fotogrammi costanti, fps costanti, quindi non che cala, eccetera, eccetera, riproduzione di almeno il 95% della Adobe RGB, con un'ottima fedeltà cromatica, possibilità di attivare tramite un tasto vicino all'oculare un profilo flat, oppure una funzione che io posso attivare e disattivare velocemente, non è che devo andare nei menu, eccetera, in maniera tale che così nelle scene ad alto contrasto posso vedere meglio cosa sto fotografando, e poi l'altra cosa importante, degli oculari fatti per i mirini elettronici, non per i mirini ottici, degli oculari che avvolgono di più l'occhio, magari degli oculari specifici per portatori d'occhiali, in maniera tale che io possa risolvere il problema dell'infiltrazione di luce che sono molto fastidiose e mi rendono la vita a livello di inquadratura molto complicata. Vabbè ragazzi, finisco qui questa riflessione fotografica, a tratti polemica, però ripeto, è un invito a cominciare a fare pressione e quindi scegliendo prodotti che abbiano certe performance, certe caratteristiche e soprattutto non accettare più, come dire, la sufficienza nel mondo dei mirini, perché è inutile che poi dopo abbiamo una fotocamera col super riconoscimento dell'occhio, 10.000 fotogrammi al secondo, 150 milioni di pixel, poi fa delle foto di merda perché vedi male. Non ci siamo ragazzi. Prima le cose serie, poi le super cazzole. Questo come la penso io, lo sapete, sempre in modo molto schietto, molto diretto. Ragazzi, fatemi sapere la vostra opinione. Ciao ciao! Ciao!